Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sarebbero ben indirizzate vicino ad una svolta le indagini per stabilire le cause responsabili del duplice gesto della sera di martedì a Porto Santerpidio, quando intorno alle 21.30, prima un sasso ha ridotto in frantumi il finestrino di un'auto, poi una bomba a carta ha causato un'esplosione nello sportello che protegge il vano di alloggiamento dei contatori di un'abitazione in via Mameli. Entrambi i gesti sono stati rivolti nei confronti di una famiglia, o meglio, come sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni, verso una giovane che con la famiglia abita al Civico 42 ed è la proprietaria dell'autovettura danneggiata. All'origine della ritorsione, che avrebbe potuto cagionare anche danni alle persone, vi sarebbe una diatriba stradale tra Elisa Sbrolle, questo il nome della persona colpita che abbiamo ascoltato ieri ai nostri microfoni, e uno o due automobilisti che occupavano un SUV il pomeriggio dello stesso giorno ed avevano imboccato una via a contromano ed Elisa se li era trovati davanti con la sua auto, evitando per un soffio un impatto frontale. I due, forse di nazionalità tunisina, avrebbero poi posto in essere una vendetta qualche ora più tardi a causa del diverbio scaturito nel pomeriggio, e non si esclude che il danno al vetro della macchina della donna non fosse che un espediente per richiamarla in strada e far poi esplodere l'ordigno. Non si tratterebbe di una bomba carta di fabbricazione artigianale, bensì di materiale esplosivo ben congeniato, che se non ci fossero stati alcuni minuti tra il vetro infranto e la deflagrazione, avrebbe colpito Elisa, la sua famiglia e alcuni vicini accorsi a constatare i danni alla macchina. Si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini da parte della squadra mobile della Questura che indaga sulla vicenda.